lunedì 21 marzo 2016 buongiorno ben ritrovati a tutti cari telespettatori di fano tv oggi è il 21 di marzo il 21 di marzo è l'inizio della primavera anche se a guardare fuori il tempo insomma non è che sia un granché avremo una settimana così così lo vedremo tra un istante migliorerà soltanto nel fine settimana dicevo inizia la primavera ma soprattutto inizia per i cristiani una settimana importante la settimana più importante dell'anno cioè la settimana santa oggi è lunedì santo la chiesa ricorda anche la beata benedetta cambiago il sole sorto alle 6.10 tramonterà alle 18.21 vediamo ad ora il tempo oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle ore centrali della giornata precipitazioni deboli sparse più probabili nel settore centro meridionale della regione nel pomeriggio lieve diminuzione delle temperature nei valori massimi per domani ecco il peggioramento martedì 22 avremo precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio più probabili nella mattinata nel settore centro settentrionale della regione quindi in provincia di pesaro urbino mentre nel pomeriggio nella meridione senza variazione di rilievo le temperature i venti sono nord orientali che cosa succederà abbiamo già detto nella giornata di mercoledì giovedì insomma poi il tempo sarà nel cuore della settimana sarà brutto con precipitazioni anche intense poi via via migliorerà nel corso della fine settimana quindi probabile che il tempo sia discreto per la giornata di Pasqua ieri il nostro sito occhiolanotizia.it ha battuto la notizia della tragica morte di un ciclista di 44 anni un fanese di 44 anni che tra le varie passioni aveva anche appunto quella di andare in bicicletta così come la montagna per esempio. La notizia ha subito fatto il giro della città e oggi ne parlano tutti i quotidiani cominciamo dalla pagina del resto del Carlino, muore in corsa questo è il titolo la vittima è Filippo Palazzi di 44 anni di Fano stroncato in una gara ciclistica a Savignano siamo in Romagna. Filippo eccolo qua in questa immagine mentre la fotonotizia si riferisce ai momenti e primi momenti del soccorso. Eccola invece la pagina dedicata proprio alla tragedia un infarto che ha fulminato questo ciclista fanese di 44 anni un vincente tra i veterani gestiva un negozio di sport, Palazzi Sport, lo conosciamo tutti insieme al fratello Michele. Secondo i testimoni non ha fatto in tempo neppure a togliere i piedi dai pedali l'idoneità allo sport, soltanto 4 giorni fa aveva superato i test da sforzo e visita medica ancora sotto vedete in momenti l'ambulanza con i soccorsi eccolo invece l'altra sua passione, dicevo la montagna, lo sci i colleghi lo vedono ralentare, in gruppo poi cade di botto esanime sull'asfalto subito annullata la gara di Savignano si farà l'autopsia quando i sanitari hanno tentato di rianimarlo lo hanno fatto con tutte le manovre che si fanno in questi casi, 30 minuti lì sul posto poi dopo la decisione di portarlo al Bufalini di Cesena dove però è arrivato in gravissime condizioni poi è morto insomma di lì a poco queste sono le notizie che chiaramente sono quelle che sono state raccolte in una giornata di trambusto come quella di ieri anche sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico chiaramente c'è in apertura questa notizia tragica fuga, ciclista more d'infarto partecipava ad una gara amatoriale trasportato al Bufalini non ce l'ha fatta titolare dell'omonimo negozio di biciclette sportivo appassionato lascia la moglie ed un figlio poi sotto ride vandalico squarciate gomme di auto in sosta siamo a Mondolfo le vetture erano parcheggiate nell'area dello Sferisterio comunale e in piazza Alessandro Borroni è successo probabilmente fra mezzanotte e le due di domenica mattina quando alcuni giovani hanno trovato le loro auto con le gomme a terra sul fatto indagano i carabinieri di Mondolfo poi la residenza nobiliare quella che è stata ristrutturata dalla fondazione Carifano che si trova in pieno centro a Fano Palazzo Braccio 800 fanesi sono andati a visitare questo bellissimo palazzo pieno successo quindi dell'anteprima del FAI questo palazzo, Palazzo Braccio costruito nel XVIII secolo sul nucleo più antico dove il nome ai suoi ultimi proprietari questa era la pagina di Fano del Corriere Adriatico a Senigallia invece è morto il vescovo emerito Odo Fusi Pecci si è spento nel tardo pomeriggio di ieri all'età di 95 anni Odo Fusi Pecci, vescovo emerito di Senigallia la notizia si diffuse nella serata di ieri Monsignor Pecci era stato la guida della diocesi di Senigallia dal 1971 al 1997 dunque per 26 anni i funerali non sono stati ancora fissati a celebrarli sarà probabilmente il nuovo vescovo Franco Manenti che ha assunto la guida della diocesi lo scorso mese di gennaio da Giuseppe Orlandoni che vorrà certamente partecipare alla funzione restiamo per un attimo ancora sulla pagina di Senigallia a centro pagina la notizia della bella giornata di mare che ha portato tanta di sole che ha portato tanta gente al mare assalto al litorale e ai luoghi dell'arte con il fai visite a Palazzo Ferroni Frati e alla sala della musica poi ancora sotto lancia un giocattolo dalla finestra un ragazzo di 22 anni colpito alla testa l'episodio alle 3 di notte il giovane trasportato al pronto soccorso e poi in tanti all'addio ad Aquili medico che amava l'Africa Benito Aquili in una missione in Africa lo vedete in questa fotografia pubblicata oggi sulla pagina di Senigallia del Corriere quella di Pesaro invece è ancora sul nuovo ospedale oggi nuovo ospedale vecchie abitudini titola il giornale delle marche le contraddizioni, le marce indietro le mezze verità di un percorso che non convince operatori e sindacati il balletto sulla scelta del sito dalla delibera 141 al progetto redatto dalla società Inso Sistemi rete emergenza urgenza disguidi e forte allarme i medici non si presentano al bando dell'area vasta e questa è la pagina di Pesaro del Corriere torniamo sul resto del Carlino il nodo della sanità sempre ambulanze la fine di un'epoca il trasporto adesso passa al volontariato ai privati ciò che rimane dell'appalto principale i dipendenti si dicono preoccupati così come i sindacalisti il futuro dei lavoratori ora è un'incognita dicono il riassorbimento non è per nulla obbligatorio e quale futuro per il personale di Croce Rossa ecco l'interrogazione di Romina Pergolesi del Movimento 5 Stelle poi la sinistra la sinistra che con una mossa sorpresa se il Pesaro e la sinistra dunque aprono l'ipotesi di realizzare il nuovo ospedale a Fano quindi a Chiaruccia è il coordinatore Andrea Zucchi a dichiarare che anche se la soluzione di Muraglia poteva risultare la più plausibile piuttosto che fosse signore va detto che la zona di Chiaruccia appare assolutamente la scelta alternativa migliore per un ospedale che copra le esigenze di tutta la valata del Metauro rimanendo Urbino e Pergola per le altre due e non solo delle città costiere dunque vedremo questa apertura che cosa significa in termini politici la pagina di Pesaro andiamo a vedere adesso il messaggero mare e sport, alberghi pieni il turismo di Pasqua parte bene grazie anche al basket a luglio poi il tennis internazionale perché come abbiamo già detto è stata scelta dunque Pesaro per la seconda volta per la Coppa Davis Filippetti e il Nautilus questo albergo in legno speriamo che altri colleghi investano in queste nuove strutture due hotel a cinque stelle poi la pagina del messaggero è per Valentino Rossi per lui niente podio ieri solo un quarto posto all'esordio del moto mondiale alla GP del Qatar anche qui la cronaca con la morte del ciclista fanese in fuga alla corsa stroncato da un infarto la tragedia in Romagna vittima Filippo Palazzi noto negoziante di Fano e poi ancora sotto la città della musica Pesaro celebra l'organo a Canne la rassegna World Organ Day parte oggi compleanno di Bach e durerà fino al prossimo 21 di giugno le altre due pagine poi vediamo al volo lo sport anche qui il mare il mare più lo sport la coppia vincente riempirà gli alberghi prima il torneo di basket poi il tennis Coppa Davis in estate lo ricordiamo si terrà il 15 e dal 15 al 17 di luglio questa Coppa Davis bis per Pesaro è già annunciata Italia-Argentina come un successo per la città di Pesaro ospedale SEL lo vuole a Chiaruccia e Renzoni nelle caserme il progetto a Fosso Segliore infiamma la politica a Giannotti però l'Oda Ceriscioli ora basta con i giochi chiediamo con le due pagine sportive velocemente perché il Fano ieri ha vinto 1-0 a Fermo contro la Fermana per la ventottesima giornata di campionato di serie D il Fano vince dunque 1-0 la Fermana Spreca decide Sivilla dopo un primo tempo senza emozioni succede tutto in sei minuti e il Fano ovviamente brinda e stasera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia potrete vedere la partita tutta la partita del che il Fano ha disputato appunto a Fermo poi invece la Vis la Vis ringhia e mette paura ai Lupi i Lupi di Campobasso 1-1 questo è il risultato finale la Vis ha giocato fuori casa prestazione di qualità a Campobasso vantaggio con Rossoni poi 2-0 sfiorato con giorno e pari dei molisani insomma queste sono le notizie selezionate nei quotidiani questa mattina come sempre in edicola per tutto il resto come sempre c'è il nostro sito internet occhianotizia.it che è collegato anche ai social network Facebook Twitter Google Plus e naturalmente la nostra applicazione internet che è sempre aggiornatissima e che è scaricabile sia nell'app store e nel Google Play quindi è scaricabile basta digitare occhio alla notizia scrivere occhio alla notizia e potete scaricarla così come l'appuntamento per questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti per aver guardato